Buongiorno, qualche considerazione sul pallone d'oro e sui premi anche al galà del calcio di ieri. Innanzitutto c'è questa particolarità che sono stati lo stesso giorno. Uno dice ma com'è possibile? Lo spiego io. Perché non è che è tanto difficile da capire peraltro, ci arrivate anche voi. Essendo questa l'unica settimana prima del mondiale, praticamente senza coppe europee e solo con le coppe nazionali era l'unica settimana in cui i giocatori erano disponibili ad andare a tirare il premio perché altrimenti o erano in ritiro per la Champions o per le coppe europee oppure erano impegnati magari per un turno infrasettionali di campionato. Quindi è uno dei tanti obblighi di calendario imposti dall'andamento della stagione e dal mondiale che si giocherà tra poco più di un mese. Allora, come sapete voi, ve l'ho già detto diverse volte, io pallone d'oro non lo amo, non riesco proprio ad amarlo come premio, non mi piace, mi è mai piaciuto. Mi è piaciuto nel periodo in cui lavoravano di concerto con la FIFA, lì aveva preso un altro senso secondo me, ma questa cosa dei giornalisti, di tutta Europa che votano, non sono tutti bravi come Paolo Condò, che è bravissimo e che conosce tutto il calcio. Infatti, da cosa è provato questo? Ho fatto un calcolo, negli ultimi 40 anni solamente il 15% dei premi e è andato a giocatori che non fossero attaccanti o trequartisti. Perché? Perché è ovvio che ruba di più l'occhio il lavoro di un attaccante e di un trequartista, però allora chiamiamolo, lasciate perdere che l'hanno vinto Ronaldo e Messi per una vita, prima Platini, Gulli, Van Basten, Papen, Melicito, gli unici che non erano attaccanti sono stati Sammer e Mateus, Sammer tra l'altro scoppiò una specie di scandalo quando lo vinse, Cannavaro naturalmente, Modric, pochi però, pochissimi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà è un premio alle punte. Beh, è abbastanza evidente. Ma perché? Ma perché non tutti guardano le partite di campionato? Per esempio Benzema, no? È ovvio che lo deve vincere Benzema. Ma perché è ovvio che lo deve vincere Benzema? Perché negli occhi di tutti rimangono le partite con Real Madrid in Champions League, che sono tre partite per una stagione. Poi Benzema ha fatto bene anche in campionato. Premio meritatissimo, eh? Abbiamo detto da sei mesi che l'avrebbe vinto lui. Quello che discuto è sull'effettiva importanza e validità del premio, devo dire la verità. Perché obiettivamente, al di là del periodo in cui era scontato un mese, e l'ultimo mese comunque ha suscitato molte discussioni, Cristiano Ronaldo è un premio che premia quello che ruba l'occhio. È possibile che Maldini o Baresi non abbiamo mai vinto quel premio? Dico Maldini e Baresi, ma ne posso citare anche tanti altri, eh? Che avrebbero meritato magari. E che però, giocando in posizioni meno vistose, mezzala, centrocampista, difettura, difensore centrale o portiere, è ovvio che abbiano meno possibilità di essere premiati. Quindi io ormai lo definirei il pallone loro degli attaccanti. Questo mi sembra abbastanza evidente. Ho un'idea su chi lo vincerà l'anno prossimo. Voglio dire se fa 100 gol a quello biondo, chi glielo può levare il pallone d'oro, a prescindere da come arrivi il Manchester City. Vorrei capire quanto influirà il mondiale, credo meno del solito, perché in genere il mondiale arriva non 12 mesi prima del premio, 6 mesi prima del premio, quindi influirà probabilmente meno rispetto a quanto avrebbe potuto. Quindi anche lì cambierà un po' tutto. Però diciamo che Holland mi sembra un candidato molto buono al momento, visto che anche Messi, a meno che certo Messi vince il mondiale, allora a quel punto gli è dovuto per la carriera, e perché mette l'ultimo tassello per raggiungere proprio i top di tutti i tempi della storia, entro proprio ancora di più nell'Olimpo. Però diciamo che per l'anno prossimo questa è la mia idea. A posto, come detto, quando io ero il direttore di Sky, mi dicevano c'è la cosa del pallone d'oro, e se non avevamo dei diritti io dicevo che a me il pallone d'oro non me ne fregava niente, fondamentalmente. E un po' è ancora così. C'è stato anche il gran galà del calcio, e io devo dire che mi sono trovato d'accordo con quasi la totalità dei premi, ecco magari sul gol di Teo Hernandez, potrebbe essere anche qualche altro gol di giocatori meno eclatanti, ugualmente bello, qui vale ancora che ruba l'occhio, ovviamente il gol di Teo, il Milan che ha vinto lo scudetto. Per il resto mi sembra che soprattutto la top 11 sia abbastanza scontata nei nomi, se vogliamo, ma proprio perché è giusta, e quindi è ovvio che Milinkovissarvi ci va dentro. Sono stati premiati i giocatori sia per la qualità loro propria, sia per come hanno giocato la stagione. Bremer, del quale si è parlato tantissimo, giustamente va nella top 11 che poi ha dominato dai giocatori del Milan e dell'Inter. E mi piace che sia stato inserito in Mobile, perché Mobile non può non essere inserito nelle top 11, non può non essere inserito tra i grandi attaccanti, perché uno può pensare quello che vuole, ma ragazzi, contano le punte. Quando io sento i miei amici tifosi della Lazio che si arrabbiano perché è sottovalutato in Mobile, lo capisco, perché quando uno ti fa esultare tutte le domeniche, tutte le domeniche, quando la squadra parte da 1 a 0, poi il resto delle chiacchiere resta 0, appunto. Cioè, non si può dire nient'altro. Un giocatore che ti fa la differenza in quel modo, e infatti io penso che la Lazio un po' potrebbe patire l'assenza di Mobile, però perché non è andata sul mercato a prendersi un giocatore che lo può sostituire, ma neanche di grandissimo livello, perché tanto poi, se non si fa male, Mobile ne gioca 50 su 50, quindi uno che sia disposto di pochi di sedo a fare la riserva, che però nel momento opportuno possa giocare. Erano stati, secondo me, un po' scottati dall'esperienza Murici, perché avevano preso un attaccante che era perfetto per fare quel ruolo, ma non era all'altezza, o almeno non si è dimostrato all'altezza qui in Italia. Quindi, secondo me, piuttosto che spendere, sono andati su uno come cancellieri, pensando, tanto Ciro le gioca quasi tutte, e poi eventualmente ci arrangiamo. Come si può arrangiare la Lazio? La Lazio, secondo me, si può arrangiare con Milinkovic-Savic davanti, perché ti puoi appoggiare, perché sa giocare con la squadra, perderai forse un po', sicuramente al punto di vista realizzativo, perché non è immobile, però lui viene incontro, gli altri possono inserirsi, quindi seguendo un po' il tipo di gioco di Sarri, con Milinkovic-Savic lì davanti, ti puoi permettere un centrocampo più sport in avanti, più offensivo. A me, come idea, piace più questa, di spostare Felipe, Pedro, cancellieri, in una posizione che di fatto non è la loro, poi alla fine, perché sono tutti laterali, come attaccanti. Questa però è una divagazione sul tema principale, che era giusti, i premi al Gran Galà del Calcio, non sono potuto andare per un piccolo problema, ma mi sarebbe piaciuto molto esserci, perché avrei applaudito soprattutto Pioli, con grande afflato, perché quello che ha fatto, secondo me, è stato qualcosa di veramente importante, e credo che lo abbia portato a una completezza professionale, e anche personale, se vogliamo, e lo vedete nelle interviste, lui adesso in comunicazione è diventato fortissimo, già lo era, ma è diventato fortissimo, dice sempre la cosa giusta, è attento a tutte le parole, se uno vede un piccolo calo della squadra e gli dice, ma allora il bicchiere è mezz'ora? No, il bicchiere è pienissimo, noi siamo lì davanti, per adesso, sa che la stagione è difficile dopo un grande successo, sa che si sono concentrati sulla Champions League, e qui è l'unico punto, che secondo me va messo un po' a posto, ma è normale, perché una squadra giovane come Milan, in campo nazionale, ha impiegato un anno, e poi è arrivata, in campo internazionale, ci vuole un po' di più, perché comunque, tutti questi giocatori, non è che abbiano una grandissima esperienza di partite, tipo quella di Chelsea, tanto per intenderci, e quindi di Londra, cioè del Chelsea, e quindi, lì aspetto ancora un salto di qualità, sperando che possa esserci già, in questa stagione. Ma secondo voi, io vincere poi non è dopo l'anno prossimo? Qui ci sarebbe un'espressione romana, per chiudere, ma non la dico, a penso, ma non la dico.